Che cos'è un test di tolleranza al glucosio? Un test di tolleranza al glucosio è un test che i medici usano per misurare l'efficienza del corpo nel metabolizzare lo zucchero. Quando il corpo metabolizza lo zucchero, in pratica lo scinde per utilizzarlo per l'energia. Se il corpo non metabolizza lo zucchero come dovrebbe, il diabete potrebbe essere il risultato. Il test di tolleranza al glucosio può essere utilizzato per rilevare il diabete di tipo 2, che è il tipo di diabete diagnosticato più frequentemente. Viene anche usato per diagnosticare il diabete gestazionale, che è un tipo di diabete che può svilupparsi durante la gravidanza. I medici eseguono un test di tolleranza al glucosio per verificare problemi con il modo in cui il corpo di una persona gestisce il glucosio, che è lo zucchero nel sangue, dopo che la persona ha consumato un pasto. In preparazione al test, ai pazienti viene generalmente chiesto di evitare di mangiare e bere qualcosa per circa 8 ore prima del test, sebbene debbano consumare le loro diete normali fino all'inizio del periodo di digiuno di 8 ore. Spesso, i test di tolleranza al glucosio sono programmati per la prima mattina, consentendo ai pazienti di digiunare durante la notte mentre stanno dormendo. I medici eseguono il test di tolleranza al glucosio in diversi passaggi. Come primo passo, viene prelevato il sangue del paziente. Un medico può usare un ago per prelevare il sangue da una vena o un dispositivo medico per punzecchiare un dito e prelevare una piccola quantità di sangue da lì. Questo sangue viene quindi utilizzato per valutare il livello di zucchero nel sangue del paziente e durante il digiuno. Per testare il diabete di tipo 2, i medici fanno bere al paziente una tazza, 226,79 grammi, di soluzione di glucosio, che è molto sciropposa e dolce, infatti, ha un sapore simile a una soda molto dolce che ha perso le sue bolle. Dopo aver bevuto la soluzione, il paziente attende circa due ore e il suo sangue ha ancora una volta testato. La soluzione utilizzata per testare il diabete di tipo 2 di solito contiene circa 2,6 once, 75 grammi, di zucchero. I pazienti che sono stati testati per il diabete gestazionale bevono anche questa soluzione, tuttavia, il suo contenuto di zucchero è di 3,5 once, 100 grammi, e il sangue del paziente può essere assunto una, due o tre ore dopo il suo consumo. A volte, i pazienti in stato di gravidanza sottopongono a test del sangue solo un'ora dopo aver bevuto la soluzione di glucosio e non hanno bisogno di ulteriori esami del sangue. La maggior parte delle persone non trova particolarmente a disagio il test di tolleranza al glucosio. Alcune persone si sentono nauseate dopo aver bevuto la soluzione di glucosio, tuttavia, e altri si sentono a disagio nell'attesa di così tanto tempo da mangiare. Inoltre, alcune persone notano il disagio causato dal lago o dal dispositivo medico usato per prelevare il sangue.